21 giugno 2014 una tranquilla escursione sulla Maiella a Cimamurelle ma in questo periodo penso non serve a consultare il bollettino antipalanga mentre facevo una foto a questa soldanella sento un rumore un frastuono dietro le mie spalle mi giro e guardate che cosa vedo se non avessi fatto quella foto mi sarei trovato proprio ad attraversare quel nevaia nel momento dello stacco di quella valanga ma forse non sarei rimasto coinvolta l'hai fatto in tempo a scherzarmi certo è che ma non so ma non so Grazie a tutti